Ci troviamo ad Atena Lucana, presso l'auditorium comunale, dove è stato presentato il programma per il corso di formazione, al termine del quale sarà possibile iscriversi all'albo dei babysitter. Ne abbiamo parlato con il responsabile del piano di zona, Antonio Florio. Questo progetto nasce dalla considerazione che sul territorio si sta investendo molto su quella che è la fascia di età a 0-3 anni, come su indicazione della comunità europea e della regione Campania. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto dare a questa persona una professionalità tale da poter adempiere appieno a quelli che sono i compiti. Ad oggi i corsi del genere non ne sono stati fatti. Dovendo noi offrire servizi di babysitteraggio alle famiglie, ci è sembrato opportuno formare queste persone attraverso questo albo che istituiremo alla fine del corso. Penso che sia un corso abbastanza anche professionalizzante, visto che i docenti di questo corso saranno un neuropsichiatra infantile, una psicologa, un pediatra e un legale per gli aspetti più squisitamente giuridici. Cosa dire di questo corso? È un corso che nella fase sarà formato da 40 ore, con 12 ore di tirocino presso i nostri centri per l'infanzia. È un corso che abiliterà queste persone a lavorare all'interno di quelli che sono i servizi legati al babysitteraggio da parte del piano e zona.